Per la riapertura del castello Carlo V di Crotone, chiuso da quattro anni a seguito del ritrovamento del Tenorm, una sostanza radioattiva, c'è un significativo passo in avanti. Nel corso della seduta del Consiglio Comunale, infatti, è stato dato, mandato alla Giunta, di voler provvedere alla riapertura parziale se il tecnico, già individuato dall'amministrazione, si pronuncerà in tal senso. Gli uffici, su mia disposizione, hanno preso contatto con un fisico, un esperto in radioattività, che farà il documento di valutazione radiometrico. È in base a questo documento che si valuterà il rischio di coloro che andrà a visitare il castello di Crotone, Carlo V. Ci dovrà essere un passaggio alla Commissione Prefettizia, perché tutto ciò che riguarda la contaminazione, gli inquinamenti radioattivi, c'è una commissione ad hoc. Ma Sua Eccellenza il Prefetto, con la quale siamo sempre stati in contatto in questi mesi, mi ha assicurato che la Commissione la riunirà veramente a stretto giro di tempo. Il Consiglio è stato chiesto a gran voce dalla Commissione Consigliare Cultura, guidata da Fabrizio Meo, che in questi mesi non è stato mai tenero con il Sindaco e la maggioranza di governo. Sono 15 mesi che io sollecito risposte, piuttosto che in mancanza delle risposte, piuttosto che in mancanza di motivazioni che giustifichino il perdurare di questa chiusura.